Il Signore, vogliamo fare una preghiera insieme, vogliamo elevare una preghiera davanti al Signore in questa preziosa serata, alleluia, che lo Spirito di Dio possa toccare i vostri cuori, alleluia, anche se tu non capisci, ma col cuore, col cuore tu puoi ricevere la verità, alleluia, col cuore tu puoi ricevere Cristo, col cuore, col tuo cuore tu puoi chiedere aiuto al Signore, tu puoi chiedere perdono al Signore, lo puoi fare adesso, lì dove ti trovi, alleluia, perché Dio mandò Gesù a me, sublime amore, gloria a te Gesù. Dio ha mandato suo figlio per redimerci, ed egli morì alla croce per noi, per darci la speranza, alleluia, per darci il perdono, aiuta Padre a questi bambini, il Signore, al misericordio di questi bambini, per darci la liberazione, alleluia, gloria a te, Cristo è morto per i peccatori, e questi peccatori eravamo noi, eravamo perduti lontano da Dio, ma Cristo morì per noi, alleluia, e vuole darti la speranza, amè, vuole darti il perdono questa sera, Gesù vuole darti il perdono questa sera, alleluia Gesù. Alleluia, avvicinatevi a Dio, avvicinatevi a Dio, ravvedetevi, pentitevi, convertitevi, perché il regno di Dio è vicino, Cristo ritorna, alleluia, oh benedetto è il tuo santo nome, Signore tocca questi cuori che hanno ascoltato, mi chietà, togli l'indifferenza, togli la durezza dal cuore, oh re della gloria interviense, spandi il tuo spirito, amè, alleluia, 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 Gloria all'eterno, 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 la vita eterna tramite il figlio di Dio, alleluia, che venne dal cielo, che morì su quella croce e che ressuscitò per noi il terzo giorno, vogliamo cantare un canto insieme per finire ancora, oh questa sera, alleluia, per la gloria di Dio, quel canto prezioso, alleluia, che parla della croce dove il figlio di Dio morì per noi, cari di termini, il figlio di Dio morì per noi su quella croce. Il re dei re morì per noi su quella croce, Gesù soffrì per noi, alleluia, alleluia. Lui era su quella croce, soffrendo e pensando, alleluia, mentre tutti ridevano di Lui, alleluia, 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 alleluia. Quando il sangue scendeva, la gloria di Dio morì, alleluia, 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 alleluia. Era lì, non pensava al suo dolore, Gesù era lì, con lo sguardo verso il cielo, Padre mio. Cristo ha sofferto per te su quella croce, non essere duro di cuore, non essere indifferente, accetta l'unica verità, alleluia, alleluia, e sarai libero, libera nel nome del Signore. Per te in croce, con amore pregava, era lì, grazie, Signore, alleluia, alleluia, alleluia. Padre mio, perdona loro, perché non sanno quel che si fanno. Era lì, Signore, era lì, grazie, Gesù Cristo. Nell'ultimo istante della sua vita è lì, una sola espressione uscita, padre mio tutto è compiuto. Gesù era lì che soffriva con amore, era lì non pensava al suo dolore, Gesù era lì con lo sguardo verso il cielo, padre mio. Gesù è l'agliello di Dio che soffriva con amore, era lì non pensava al suo dolore, Gesù era lì con lo sguardo verso il cielo, padre mio. Alleluia, gloria, 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 gloria al Signore. Alleluia, gloria, gloria, gloria al nome del Signore. Alleluia, gloria, 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 gloria. Bene.